ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco siero schierente macchie a cosa serve siero schierente macchie a un parafarmaco appartenente alla categoria degli schierenti e depigmentanti viso è commercializzato in italia dall'azienda naturasi di filippo antonio informazioni commerciali titolare naturasi di filippo antonio concessionario naturasi di filippo antonio categoria di appartenenza schierenti e depigmentanti viso confezioni siero schierente macchie siero schierente depigmentante per la pelle 15 ml indicazioni azione progressiva schierente su qualsiasi parte del corpo azione preventiva ed eliminazione progressiva delle macchie scure su qualsiasi parte del corpo principi attivi di grado farmaceutico ad alta azione di efficacia hp la nuova formula non funziona solo per illuminare la carnagione generale ma illumina anche la comparsa di macchie cutanee macchie di fegato lentigini i danni del sole melasma marchi di acne cicatrici vecchie macchie della pelle e persino voglie modalità d'uso utilizzare tutti i giorni uno o due volte dopo aver deterso la cute con latte detergente e l'opzione tonica naturalasi massaggiando lievemente fino a completa penetrazione su viso collo di a copyright colta copyright mani e cranio scoperto con funzione schierente e sulle zone interessate da macchie scure applicare di preferenza la sera poi cala tirosinasi enzima che produce e regola la melanina appiattiva durante la notte si consiglia altresa l'utilizzo della cream repair linea mandelico esclusivamente sulla zona trattata dal siero schierente macchie per idratare e rigenerare efficacemente la stessa a è sconsigliata l'esposizione ai raggi uv nell'intervallo d'azione del siero in quanto le radiazioni solari possono causare fenomeni di fotosensibilizzazione l'effetto schiarente si evidenzia dopo circa tre giorni necessari al ricambio degli strati superiori della pelle descrizione e caratteristiche trattamento quotidiano depigmentante in grado di schiarire correggere le macchie cutanee e rendere omogenea la pigmentazione è una preparazione cosmeceutica base di sostanze naturali senza fattori chimici aggressivi e pericolosi si presenta come un uguento siero fluido e penetrante dalla texture particolare e raffinata per una facile e piacevole applicazione si lascia assorbire facilmente veicolando in profondità i principi attivi e favorendone l'efficacia la melanina ha il più importante tra i pigmenti che colorano la cute prodotta da cellule specializzate situate nell'epidermide i melanociti la melanina ritenuta nelle sue due componenti feo melanina e umelanina un pigmento di protezione contro le radiazioni uv il siero schiarente depigmentante a euro siero schiarente macchie a euro s agisce quindi a livello biologico per mezzo di attivi naturali e da frutto di studi biochimici aggiornati a proposito di una materia complessa come la pigmentazione cutanea il siero grazie alla sua formula a valore di avanzata cosmeceutica ed è efficace anche nei confronti di discromie cutanee ancor pia serie e complesse di quelle considerate il siero schiarente ed epigmentante naturalasi agisce quindi biologicamente tramite principi attivi tutti naturali privi quindi di sostanze chimiche aggressive e pericolose che bloccano selettivamente la tirosinasi con un effetto attivato per via fisiologica e biochimica i principi attivi agiscono quindi in sinergia per un prodotto sicuro quale è la euros cosmeceutica euro s di grande importanza si rivela anche l'azione preventiva di protezione della cute dalla comparsa di macchie scure o di pigmentazione accentuata non contiene ormoni non contiene idrochinone non contiene parabeni prodotto in italia avvertenze non applicare su ferite aperte o fresche zone vicine agli occhi e mucose cute trattata con antibiotici o altri prodotti ad uso topico tenere lontano dalla portata dei bambini conservazione conservare in luogo asciutto e da temperatura ambiente consumare preferibilmente entro gli 8 mesi dall'apertura componenti e ingredienti aloe barbadensis gel acqua propilene glicol mandelica cid snail secretion filtrate e tocci di glicol vitis vinifera extract arbutin polisorbate 20 fenoxietanol saccaride isomerate arcto stafilo suva ursi extract carbomer butilene glicol crategos cuneata extract limonene potassium sorbate sodium benzoate glicerina allidris silicosa extract rumix occidentalis extract magnesium ascorbil fosfate citrus medica limonum oil nona peptide 1 dixtran ascorbil palmitate camomilla recutita oil parfum tocopherol undecilenica cid idrogena teglicitin oligopeptide 68 sodium oleate ascorbic acid sodium ialuronate citral citric acid disodium edta linalo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato